Breitling Colt, l'orologio sportivo e versatile dal design distintivo. Breitling Colt è un orologio di lusso entry-level, prodotto dalla rinomata casa svizzera Breitling S.A. I modelli Breitling Colt sono disponibili con un movimento automatico certificato Costco calibri al quarzo ad alta precisione. Nel 2020, Breitling ha cessato la produzione della linea Colt. Originariamente concepito come orologio militare negli anni 80, il Breitling Colt ha conquistato l'attenzione anche del pubblico civile grazie al suo design elegante, alle sue funzionalità pratiche e alla sua ampia gamma di stili e dimensioni. Disponibile sia in versione al quarzo che automatica, i modelli al quarzo offrono un ottimo rapporto qualità-prezzo. La famiglia Colt si distingue per il suo stile vincente, incarnando un'energia giovanile e un design dinamico. Il suo tratto distintivo è l'uso di indici incisi sulla lunetta, anziché dipinti o applicati. Insieme a quattro cavalieri, in rilievo posizionati alle ore 12, 3, 6 e 9. Questi dettagli conferiscono un carattere unico e riconoscibile ai modelli Colt. Uno dei modelli più interessanti della linea Colt è il Colt Sky Racer, lanciato nel febbraio 2017 per rendere il marchio Breitling più accessibile a un pubblico più ampio. La sua cassa ampia da 45 mm, realizzata in un composito di carbonio chiamato Bright Light, è un terzo più leggera del titanio ma straordinariamente resistente. Il Colt Sky Racer è dotato del movimento Breitling 74 Super Quartz, un movimento termocompensato ETA, Termoline 955652. Questo significa che il movimento è regolato per minimizzare gli effetti della temperatura sulla precisione del movimento al quarzo. Il risultato è un orologio 10 volte più preciso di un movimento al quarzo standard e, come tutti gli orologi Breitling, è certificato dal COSC. Il cinturino in gomma nera del Colt Sky Racer è dotato di un sistema di rilascio facile ed è arricchito da strumenti di misurazione utili per ogni avventuriero. Con una resistenza all'acqua fino a 500 metri e una durata della batteria stimata in 8 anni, il Breitling Colt Sky Racer è una scelta interessante per i giovani acquirenti di orologi o per chi cerca la comodità, la precisione e la convenienza di un orologio al quarzo. Il Breitling Colt Automatic rappresenta l'essenza della linea Colt. Dotato del movimento automatico Breitling 17 con una riserva di carica di 42 ore, il Colt Automatic è più sottile dello Sky Racer, con una cassa di 44 mm e una profondità di soli 11 mm. Questo orologio è dotato di una corona avvitata e una corona di sicurezza che garantiscono una resistenza all'acqua fino a 200 metri. Il quadrante del Colt Automatic è disponibile in diverse varianti, tra cui il classico nero, il blu e il grigio. I numeri e gli indici sono luminosi, garantendo una leggibilità ottimale anche in condizioni di scarsa illuminazione. Con la sua robustezza e affidabilità, il Breitling Colt Automatic è un orologio ideale per gli amanti degli sport all'aria aperta e delle attività avventurose. Se stai cercando un orologio da polso che unisca prestazioni, eleganza e versatilità, il Breitling Colt potrebbe essere la scelta ideale.